sapere antico e moderno iscriviti al canale e metti mi piace tre frasi di rita levi montalcini il cervello non ha rughe se continua a lavorare sodo si rinnova continuamente anche dopo gli 80 anni e a differenza di altri organi può perfino migliorare nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta ricordalo quando sei di fretta insegnalo ai tuoi figli non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori non ha importanza che siano religiosi oppure laici i giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori perché questi rimangono anche dopo la nostra morte grazie per la visione